Nelle ultime pillole accennavo all'agnosi, ma guardate che l'agnosi è una cosa seria perché essere gnostici significa decidere cose bene e cose male a prescindere contro la volontà di Dio. Quindi avere la pretesa, io, Angela, voi, di decidere cose bene e cose male per me e per tutti. Questa pretesa gnostica fa un passo di gigante, dicevo, con Lutero e con Bacone, con Lutero perché sconquassa la Chiesa e dà tutto il potere ai principi, i quali decideranno cose bene e cose male per tutto anche per la Chiesa. E poi Bacone che idolatra la scienza, scienza partorita dal suo cervello e dal cervello di quelli che come lui sono, come definisce, ingegni adatti e ben scelti. Questi ingegni adatti e ben scelti, cioè gli ingegni gnostici, saranno poi gli ingegni massonici perché la massoneria è la forma moderna dell'agnosi, questi ingegni si faranno strada nelle corti europee che erano rimaste cattoliche. Questo succederà a metà del Settecento. Lì ci sarà una moda, una moda filosofica, Voltaire la sponsorizza e con lui tutti gli altri filosofi, una moda filosofica che si darà un nome, un nome veramente curioso se non impressionante. Questo nome è dispotismo illuminato. Se ci riflettete, noi ci siamo abituati a queste parole che tutta la stampa, anche i libri di storia e di filosofia, ci hanno spiattellato come fossero ovvi, naturali, che naturali non sono per niente. Ma che vuol dire dispotismo illuminato? Significa che qui i filosofi, gli gnostici, la massoneria si contrappone alla Chiesa in nome di che cosa? Della libertà? No, del dispotismo. Lo dicono fin dal nome. Dispotismo, un despota. Un despota che però ha delle caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Illuminato. Un despota è illuminato dalla ragione. Qual è la ragione? La ragione di quello che illumina il despota, cioè la ragione del filosofo di corte che per farsi spazio, per avere potere, si contrappone a quelli che in genere gesuiti stavano vicino ai principi per aiutarli nella conduzione dello Stato, per evitare che confondessero il bene col male e il male col bene. Questo farà pregiudizialmente l'agnosi che si chiama dispotismo illuminato a metà del Settecento. E che faranno questi? Beh, il despota è illuminato. Tutti diventano despoti illuminati, quelli che erano rimasti cattolici. A cominciare dal sacro romano imperatore Giuseppe II d'Asburgo, che regna a dieci anni senza la madre, dal settecentottanta al settecentonovante, che pretende di ridisegnare che cos'è la Chiesa, di impedire la comunicazione dei vescovi e dei preti con Roma, addirittura riforma la liturgia, secondo criteri ovviamente illuminati dalla sua ragione e da quella dei filosofi che gli stavano accanto.